Grazie a tutti Grazie a tutti Non buttiamo niente, noi il risultato non ci condanna, non ho mai qualificato Tu comunque è un'ottima prestazione ancora una volta dietro Nel ultimo partito sono soddisfatto della mia prestazione, ma di tutta la squadra perché veramente sono bravissimi ragazzi che mi aiutano molto, di sicuro in difesa mi hanno aiutato abbastanza per tesci In vista della cup se te sei tranquillo Sì, se la squadra è questa sicuramente diremo la mossa sicuramente Va bene, ti ringrazio, ancora complimenti Grazie a te, ciao